Planet Explorer 10 Svizzera Cari amici siamo giunti così alla decima edizione di Planet Explorer con cosa la svolgeremo, con cosa viaggeremo questa volta con un inedito mezzo a quattro ruote della Quadro Vehicles lo Steinbeck e dove andremo? Partiremo appunto dalla Tremola, la strada storica dei grandi passi svizzeri poi un esclusivo volo in Mongolfiera e poi un'altra chicca esclusiva la visita al CERN di Ginevra dopodiché i grandi paesaggi alpini, il cuore verde e anche bianco della Svizzera Cari amici restate con noi, seguiteci e ci vedremo presto Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ci troviamo a poco più di 2100 metri di quota e siamo sulla vetta del San Gottardo uno dei più importanti valichi alpini è stato appunto il nome dovuto ad uno dei grandi vescovi bavaresi San Gottardo dei Hilgashem appunto vissuto intorno all'anno 1000 e poi beatificato un secolo dopo la stato che vedete alle mie spalle è stata eretta in memoria del generale Suvorov per le tante vittime russe della campagna svizzera sembra un paradosso ma qui siamo nel cuore della Svizzera fra il canton Ticino e il cantone di Uri ma pensate che siamo in territorio politicamente russo Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!